Ci tengo a precisare che la nostra è un'associazione che nasce per strada, tra ragazzi, davanti ai barri, insomma, proprio in mezzo al ponte, che è il luogo dove storicamente si sono raggruppate e incontrate tutte le generazioni di questo paese. La nostra associazione è un'associazione, dicevo, a politica, a partitica e senza scopo di lucro. Abbiamo l'intento di rivalutare il centro storico del nostro paese con delle attività di promozione culturale, con delle attività di promozione socio-assistenziali, anche per quanto riguarda il mondo socio-sanitario, se così possiamo dire. Le idee sono molte, abbiamo belle idee da voler mettere in atto, speriamo di riuscirci con la collaborazione della popolazione pollese, se ci dovesse dare una mano siamo ben lieti, anzi, questa associazione nasce proprio per accogliere più persone possibili del nostro paese, e anche fuori, perché no? Per le iscrizioni? Per le iscrizioni basta rivolgersi a uno dei nove consiglieri che abbiamo già pubblicato ed elencato in un manifesto, siamo attivi con un profilo Facebook, sappiamo che Facebook è un mezzo molto forte di comunicazione oggi. Abbiamo creato questo profilo, ci stanno contattando molte persone, abbiamo già trovato un riscontro abbastanza positivo, molto positivo devo dire. Basta contattare o sul profilo o insomma recapitare a noi le richieste di tesseramento e verranno valutate insomma senza problemi, anzi è un piacere insomma allargarci da questo punto di vista. Ci voleva una crisi politica e economica a polla per una fervente attività per quanto riguarda l'associazionismo, quindi l'impegno sociale verso la cittadina? Questo non lo so, da parte nostra io posso dire che la nostra associazione, ripeto e ribadisco, non ha alcun scopo politico, quindi voglio dire, anche se nasce in un momento politico molto particolare, le sorti del nostro paese stanno a cuore a tutti penso. Speriamo che le cose si possano risolvere nel miglior modo possibile. Noi nasciamo in questo momento, in questo periodo, ma non è una cosa insomma premeditata, nel senso che è un caso più che altro. Notiamo che c'è una fervente attività associazionistica in questo periodo a polla, però insomma la nostra, ripeto, è un'associazione che va oltre la politica e abbraccia insomma tutte le attività sociali, le iniziative, i progetti che devono proprio venire e pervenirci dalla popolazione pollesse. Grazie a tutti.